Non andare a destra, a sinistra, scendere e salire, resta la direzione obliqua, anche lei deludente. Ci vorrebbe altro spazio, un'altra dimensione, perché resta l'anelito se tutto è poi vietato? La formula del giglio saprei là e la forza oscura che lo anima come anima me, e saprei perché esiste la massima illusione, fascio di luce, amore, di cui oggi ti affolgo.